Anticipazione una vita lunedì 7 ottobre 2019 Telmo conquista la fiducia di Lucia. Lei e sua cugina Selia commissionano a Fabiana la ricerca di una domestica valida per il sacerdote. Trini ha ancora molta fame. Fabiana non può più mentire e rende la moglie dell'avvocato partecipe di ciò che sta accadendo alla sua padrona. Selia appare a sorpresa con un medico per la sua amica e con grande gioia le due donne apprendono che c'è un bambino in arrivo. Trini è incinta. Ramona all'oscuro di tutto offre il suo aiuto a Samuel ma lui vuole recarsi in banca lo stesso. Felipe informa a Selia che l'Aldai sta cadendo in rovina. Il giovane fa credere a tutti di non essere in difficoltà ma in realtà mente di brutto. Liberto viene trasferito in una stanza ma resta incosciente. L'intero quartiere prega per lui. Alla fine si sveglia. Fabiana vuole smascherare Servante. Samuel torna a casa completamente rovinato e incontra Ursula.